focaccia con pomodorini e oliva e taggiasche, soffice e profumata è una vera delizia. In un contenitore metti il lievito di birra, lo zucchero e aggiungi l'acqua. Unisci poi la farina e mescola con un cucchiaio o con una forchetta. Ancora. Copri per bene e fai lievitare fino al raddoppio. Aiutandoti poi con dell'olio fai delle pieghe per rinforzare l'impasto. Ungi per bene una teglia e stendi l'impasto aiutandoti con dell'olio. Fai lievitare poi nuovamente. Lava i pomodorini, tagliali a spicchi e raccogliali in una terrina. Condicili con olio extravergine d'oliva, sale, pepe, origano e olive taggiasche. Mescola e lascia riposare. Distribuisci i pomodorini conditi sulla focaccia e con i polpastrelli fai delle fossette in cui andrà tutto il sughetto che si è formato. In forno a 250 gradi, nella parte più bassa del forno, funzione statica. Alza poi la teglia e termina la cottura. Et voilà! Grazie a tutti!